su gia e mi leggisci tornano con un'opera meravigliosa in un'edizione deluxe hard boy led la definisce jpop del loro old boy cosa succederebbe se vi imprigionassero per dieci anni in una prigione privata e poi usciste fuori beh l'unica cosa che pensereste a cui pensereste è la vendetta è proprio questo qui old boy legato a doppio filo ma non nella storia a una serie nella trilogia della vendetta uscita qualche anno fa qualche decennio fa anche al cinema questo old boy non mi ha colpito tantissimo sinceramente nel suo primo volume vedremo i prossimi perché è sicuramente una storia che vorrò proseguire e finire